Oggi parleremo del dolce 2020 Vediamo una novità assoluta che è una bella guarnizione perfetta Poi mettiamoci un po' di limone e poi un po' di pomodoro Eccolo una bella sfarinata e poi proviamo a dargli il taglio Ce l'ha messo l'ova Non è duro, ok ce l'ho messo Ce l'ho messo, è pronta E che si fa ora? Libretto delle istruzioni Dunque prendere la mannaia Sì ma che mannaia, la pazza da gol? Vedere di chiudere la bocca E poi si potrebbe anche tagliare a pezzi Vediamo eh Ma questa roba dura Grazie a tutti